Guarda che questa è una ripresa, ci stanno facendo un filmino, ci stanno facendo un filmino, ciao Paolo e Cristiano, ma sta cercando la tua foto con loro, dov'è? Cristiano sta timido Eccolo qua, no, Michele, no, perché mi vergogno, non va al flash, puoi stare tranquillo, potrei ficare per me, eh, un messaggio, allora, ah, è a manno, come è a manno.mg